La vittoria all'ultimo secondo di Ferrara lascia l'amaro in bocca in casa Napoli. Gravissimo infortunio per Arek Milik, il campione polacco. Infatti ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro a un anno di distanza dall'altro grave infortunio che l'aveva fermato nella scorsa stagione. Il Napoli adesso si trova con l'organico ridotto, soprattutto in attacco. Restano soltanto Giaccherini e Unas per tamponare l'assenza di Milik. Due competizioni che però potranno logorare il trio d'attacco del Napoli, Insigne, Caglione e Mertens. In città ci si interroga sul da farsi. Ieri intanto su Twitter si è proposto Alberto Gilardino, ma i tifosi non sono convinti. Ma guardi, io penso che la soluzione interna sia quella migliore perché tra altre cose abbiamo calciatori come Unas ed altri che possono modificare anche, non dico il sistema di gioco, ma qualcosa può cambiare. Visto l'esperienza dell'anno scorso, comunque penso che l'organico in Napoli ce l'ha. Non credo che bisogna andare sul mercato per comprare, tutto giusto per comprare. No, no, Gilardino secondo me può restare a casa senza che viene qua a prendersi un po' di pensione. Andava a fare un intervento di mercato anche prima che si faceva male mili. Ma penso che così possiamo andare benissimo avanti fino a gennaio. Abbiamo comunque il tridente davanti che ci copre. Ma andare avanti così non credo perché anche partecipare a una competizione come Champion con Mertens, Caleon e Insigne non credo che più ce la fanno. Un as nel ruolo che ha fatto Mertens l'anno scorso, quindi un finto 9. Mertens è elevato per quello che è, è un grande giocatore, ma penso che Unas è più da esterno, non da punta. Credo che più Caleon può ricoprire quel ruolo. Andare avanti così, il Gilardino è una cosa passata e non serve più. Abbiamo il nostro Mertens che vale oltre 100 Gilardini. Stiamo bene così, quando è a gennaio ci abbiamo inglese. Guarda, io credo che il Napoli deve intervenire sul mercato perché considerando che i giocatori sono costretti a fare sia la Champions che il campionato, cioè si affaticano. Tra l'altro consideriamo che Milik è un po' sfortunato, quindi direi di pararci un po' le spalle. Speriamo che non succeda più niente, però comunque è meglio restare pronti a qualsiasi evenienza perché i risultati che abbiamo ottenuto non li possiamo perdere per la cattiva sorte.